Siamo tornati in studio, ultimo componente della lista Unione Nord-Est, Matteo Lopez. Sì, buongiorno. Stavo cercando il suo nome perché siete tanti e uno perde anche un po' il senso dell'orientamento. A che lei prima esperienza in politica perché ha deciso di candidarsi e perché questa lista, proprio questo partito anzi? Questo partito perché ho conosciuto il presidente Bertaso, mi ha esposto il suo progetto politico con la macro regione che lo prevede la Costituzione, l'articolo 132 della Costituzione e quindi io che sono siciliano e vengo da una regione autonoma sogno anch'io per i miei figli l'autonomia del Veneto. Quindi vuole dire che una regione a statuto speciale, vista l'esperienza della Sicilia, ha dei vantaggi? Visto che appunto è vissuto in una regione a statuto speciale, quali possono essere i vantaggi? Anche se mi permetta, probabilmente la Sicilia ha una situazione che forse è diversa dal Veneto e dal Nord-Est. Insomma, viviamo in contesti un po' diversi. Chiaramente il Nord-Est, la possiamo definire la locomotiva d'Italia e d'Europa, a differenza della Sicilia. Anche se è un po' rallentata. Anche se molto rallentata in questi anni perché per mia esperienza personale, che mi occupo tanto di sociale, vedo tutti i giorni gente in difficoltà e quindi hanno un po' defocalizzato il problema reale della gente. Ecco, perché comunque continuano a chiudere fabbriche, stabilimenti. Insomma, non ce la passiamo bene neanche noi. Esattamente. Per quanto riguarda il vantaggio dell'autonomia, è chiaro, come tutti ben sanno, che una regione autonoma può gestirsi da sola, ma non solo. Le tasse comunque, anche quelle sanitarie, piuttosto che le tasse che noi paghiamo regolarmente a livello regionale, comunale, provinciale, sono inferiori ad una regione non autonoma. Perché scendere in politica da quando si è semplici cittadini, non si è avuto altre esperienze di carattere politico, si fa un lavoro normalissimo, si decide di dire sì, voglio esserci perché stanchi delle bugie, stanchi della retorica, stanchi anche di certi comportamenti senza voler criminalizzare, generalizzare, dei comportamenti illeciti che un po' hanno attraversato la politica. Certo. Noi, come abbiamo visto, da destra a sinistra, praticamente c'è stato un disastro totale. Secondo me hanno abolito metà della Costituzione che, cancellando quei diritti ai lavoratori, ai cittadini, e quindi secondo me, io mi voglio mettere in gioco appunto per magari dare un mio contributo. Quali sono gli ambiti in cui lei sente di poter dare il maggiore contributo? Non lo so, le tematiche che le sono più care, anche per esperienza e competenza? Ma, esperienza e competenza, io sono un operatore della vigilanza privata, quindi potrei anche dire benissimo la sicurezza che oggi viene a mancare un po' in tutta Italia, e quindi ecco lì sicuramente potrei dare un contributo fondamentale. Sanità, lavoro, strade, occupazione? Chiaro che poi comprende anche tutto questo pacchetto, questa carrellata di problematiche che insieme al partito, insieme al progetto di Tosi, andremo a rivedere un attimino. In Veneto ci vuole rimanere o ha nostalgia? Parlo politicamente della sua terra. Ma, politicamente in Veneto ci voglio restare perché ci sono cresciuto, mi sento parte integrante di questo Veneto, non dimenticando le mie origini, perché sono orgoglioso di essere siciliano, e quindi la politica poi, insomma, viene in un secondo tempo. Io ringrazio Matteo Lopez, Unione Nord-Est, circoscrizione di Padova, questa lista a sostegno di Flavio Tosi, candidato alla presidenza della Regione Veneto. Lo stacco un'altra lista, un altro candidato. Grazie. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti voi.